Bella a tutti raga Una squadra Cos'ha quello sulla maglia numero 13? I giocatori? I Mikelitti Vabbè si ha fatto 4-2 a Real Madrid Cosa vuoi che sia il Napoli? Cosa è il Napoli di Maradona? Is the Napolo of Maradona? Ma come ha fatto ad arrivarci prima lui Totti Totti dentro per Tony Tony dentro per Riva, Riva, Riva Ma come fa? Ero lì davanti Tony Dentro per Totti Il cross di Totti C'è Riva, Riva, ma no Massimo Ragneri Che forte Uh Roma Bologna Metta sfocata Prende dupere dal Bologna Mi sembra strano Salte in aria Dai perché alla fine io non La rovesci No, sto gol Lo butto sto gol Però era epico Mi chiamava Billy Blue Billy Blue No non era stessa No, raga, devo rifare quella rovesciata Tony Dentro per Riva Dentro per Totti Non so cosa sballo Non si deve allontanare troppo tipo così Boom No 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 Speriamo così Speriamo così La rovesciata come l'ho fatta Ah ecco così forse Era A lui forse A lui forse Aprile in acrobazia Che gol È il settantasettesimo Palloni sui suoi piedi Mi rinvio Avanzano Il filtrante per Totti 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 la può tenere vicino alla bandierina E' niente Dovemmo buttare via quel colpo in acrobazia Tanto ormai so come farlo Forse se all'ottentano Beh dobbiamo cercare lui che è quello più bravo Oh Mamma mia Che scavolo questo è stato anche un vecchio gol di Totti Questo è stato anche un vecchio gol di Totti Questo è stato anche un vecchio gol di Totti Però Era più avanti Si gira Filtrante Cavolo è vero Anche se quella rovesciata si perde qui nel gioco rimarrà sempre su YouTube Pallone Il pareggio isperato Basta ragamo sono impazzito Sono contro il Munich nella finale di Champions League Sono contro il Munich in finale attenzione Foto della squadra Stringono la mano Stringono la mano 0 a 0 Passaggio per lui Gigi Riva Riva L'acquisto che porta la vittoria a Roma Sbaglia Un passaggio Isperato Attenzione Calmiamoci La Roma sta soffrendo in questi primi minuti C'è la ripartenza Bruno Conti Bruno Conti Bruno Conti Imposta l'azione con un filtrante La controlla Totti Lo scambio con De Rossi Svetta di testa per Riva Però anche te Riva Vai Gigi Riva Attenzione vede Riva Che svetta di testa Riva Attenzione sembra isperata Questa palla Ma ce la fa Totti Dov'è Totti E Tony? Totti Totti Il 10 Totti Sembra che voglia fintare un passaggio Ma la passa a Riva Riva che in acrobazia piglia il pallone Acrobazia del portiere del Munich Eccoci qua Che gol Pareggio del Munich Attenzione Si va ai supplementari Il Munich passa in vantaggio Mancano 3 minuti alla fine dei supplementari I giocatori sono stanchi Riva Che Nadia Vedere lo libero Tony Tony Che raga Dai ti do fiducia Che raga lui sbaglia il primo rigore Che rigore Palo Il Munich non è bravo sui rigori Dritto in rete C'è Gigi Riva Campioni d'Europa Campioni d'Europa Riva Gigi Riva Gigi Riva Gigi Riva Gigi Riva Italia Barbados Che raga li dovremmo distruggere come minimo Perfetto Iniziamo bene Iniziamo bene La controlla Si gira Si gira E' le gol Nooo La punizione E se ne va La punizione di Ballack Raga ve la faccio vedere io Una punizione Perfetto Perfetto Raga vogliono che la batta così Mi sa che la punizione non è la roba migliore Il tiro diretto Ma il gioco di squadra vince No Calmi perché Si ma sento questo Cosa c'è? Ok scusate raga Azione già impostata e gol Perfetto 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 Attenzione Dentro per Montesquieu Vabbè ciao raga